Allora, io sono Maurizio Bernotti, poi c'è la musica che poi mi violano di copyright. Allora, sono in compagnia di Peppe49 e di... chi è questo? Rizzo. Rizzo. Rizzo49. No, Rizzo9. Rizzo9. Bene, siamo l'ultimo giorno di scuola. Niente, c'è Emanuela che legge. Cosa legge Emanuela? Anna Karen. Anna Karen? No. Anna Karen? No. Allora, cosa? Non ho capito male io? Anna Karen. Ah, ma non è quello che ho detto? È una foto da 162, wow. Ma quello che ne ho sentito parlare? Niente, qua? Niente, allora? Recisterò sempre di fare 10 video al giorno. Guarda! Guarda! Wow. Un palo, una musica, un castello a martello, sembra. Bene, allora, il nemico Peppe49 si è messo il gesso. Guardate queste robe fighe che abbiamo fatto. Guarda, abbiamo anche tutto decoratissimo. Ho fatto anche film, ma farò un piccolo vlog un giorno per mostrarvi tutte le robe. Ok. Andate sul mio canale, sono Peppe49. Allora, lì ho messo il mio bicchiere. Posso fare lo zoom? No, no, non posso fare lo zoom, che peccato. Guarda questo. Oh, c'è lo scoperto questo. No, ma poi mi viene... Ma poi mi... Già ho avuto problemi con l'esponcismo. No, 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 no. Non c'era una pronta per il caso del tempo. Esattamente, non possiamo farvela vedere perché ho già avuto problemi di questo genere. Allora... Stiamo facendo un vlog. Avete visto il nostro bello tag. Ti sedi sopra il mio tag per la fretta. Eh? Quali sono le sedie? Allora... Vado a chiedere ai miei compagni cosa... Vuoi condividere i tuoi pensieri? No, grazie. Ok, non vuole condividere i tuoi pensieri. Luigi, condividi i tuoi pensieri. Scusate, non ti riposto. Stiamo facendo un vlog per il canale. E così... In questo ho guadagnato 6 iscritti veri. Ok. Stiamo facendo un festino tattico. Mamma mia, la spiace anche la musica. Adesso mi mangi... Non lo so, è una cacca. Guardate qua ragazzi, io se lo mangio in live. Non so quanto si è visto. Fattico. Non è che è la verdura. Sì, che stico. Non mi mangio la rapa. Oddio, ma è dolce. Vuoi condividere i tuoi pensieri? Cosa c'è? Tutto bene? Adesso mi mangio le patatine. Sto facendo un vlog per YouTube. Ok, Marija ti saluta. Ciao Marija. Io vi auguro buon'estate. Buon'estate, ve la auguro anch'io. Andate al mare. Guarda che c'è una porta in aula. Non si apre. Mi fa della bene la porta. Mi fa della bene. Ok. Forse è meglio così. Che vuoi che la porta... Posta! Polizia, carabinieri... Prostituzione. Prostituzione. Un primo bordello. Polizieri. Polizia, carabinieri. Wow, della perfetta fusione. Anche un po' pompieri. Vogliamo conoscere... Oh, io chiudo il video perché dopo... Sto due ore caricato.